Salve, sono Gavino Fiori, nato all'estero in Francia, cresciuto in Sardegna. Il problema era molto estetico, quel vizio di portare la mano davanti a coprire un sorriso che avrei voluto che non c'era. Allora, io ho fatto naturalmente, consigliato dall'equipe del dottor Palmas, che la mia forma del viso stretta avrebbe supportato sei impianti. Ho fatto sei impianti sotto, sei impianti nella parte superiore e sei impianti nella parte inferiore, perché ho voluto proprio togliermi tutti i miei denti e non pensare più a né avere sanguinamento, dolori, niente. E quindi ho affrontato tutto quello che mi avrebbe comportato nell'introduzione dei sei impianti fissi, sopra e sotto. Sono felice così, sono contento, sono contento, mi trovo bene, lo rifare mille volte occhi chiusi. Medici fantastici, ambiente fantastico, cosa dire di più? Tutto. Adesso è bello, perché non hai più quel problema di coprire niente, di nascondere niente. Sono felice, è una cosa positiva, affronti la vita diversamente. E il primo impatto che hai con le persone è soprattutto il viso, il sorriso, la tua espressione. Poi conta quando apri la bocca, il tuo modo di ridere, parlare senza problemi, non devi coprirti niente. Tutti ti dicono che bel sorriso che hai! Grazie a tutti voi!